Hi guys, qua già e benvenuti in questo nuovo video di Clash of Server effettivamente l'altra volta non avevo detto che questa serie si chiamava così ma ve lo dico, ora si chiama Clash of Server quindi possiamo partire, questa volta faremo un attacco che penso laggerà il mondo con 4797 arcieri e questa cosa qua che è rimasto dall'altro video quasi lo riaddestro perché almeno così facciamo un attacco completo perfetto, adesso è tutto quanto pieno, possiamo andare ad attaccare troviamo un attacco ok ragazzi questo va abbastanza bene, semplicemente una cosa che mi fa incazzare di questo server che è praticamente buggato e quindi, sì abbiamo 4800 arcieri però ci sta questa merdina qui in mezzo che non si è cancellata vabbè, la dobbiamo consumare in battaglia e poi dopo si leva quindi ne faremo a meno possiamo partire, li metto proprio tutti quanti arco da questa parte e chi si è visto, si è visto vai allora sono quelli normali e già già sono morti tutti quindi non so se ce la facciamo speriamo bene io non ho mai visto cioè in questo caso qua enorme non riesce a distruggere i dirci cioè è una cosa epica, penso che non la rivedrò mai cioè sì, se li faccio un attacco così sì per carità, ma è una cosa fighissima cioè entrano da tutte le parti è troppo epico guardate che figo mi sa che nemmeno riusciamo ad usarli tutti quanti sono delle bestie cerchiamo, ne metto più possibili qua così e battono questi stronzetti ecco, vediamo poi dopo riprendiamo qui a metterli ad arco poi ovviamente c'è il municipio che spara proprio a cazzo però va bene cioè che cosa spara? spara i pezzi di merda cioè sta sparando delle tami che cazzo spara? vabbè ragazzi le sto mettendo a forma di cerchio proprio così non hanno il tempo di andare addosso a uno già che ci siamo metto pure questa qua proprio a caso giusto per fare così almeno la consumiamo e non rompe le scatole la prossima volta vediamo se riusciamo a fare il 100% ragazzi ma penso di sì tanto è abbastanza una cavolata dai ragazzi ma che cavolo fanno i pezzi se nulla in nulla mi spara cioè ci mancava solo che nulla mi sparasse cioè io come devo fare se nulla mi spara cioè non sono le mura o il nulla non riesco a capire è una cosa assurda vabbè non so se facciamo al 100% anche perché abbiamo soltanto un minuto no un'ora e sei no oddio ero abituato con il normale setting non c'è che ce la facciamo allora ragazzi metto pure dietro e vai così ovviamente nulla colpisce ancora cioè io non riesco a capire che cazzo è se hanno le mura ma io non riesco a capire ma ci sono dei pezzi di mura invisibili che micchiata che abbiamo vinto e non abbiamo manco usato tutti quanti gli arcieri è un po' una delusione però non abbiamo siamo riusciti ad usarli tutti cioè io ho cercato di sfruttarli il più possibile cioè praticamente abbiamo consumato soltanto un accampamento abbiamo prima in gioco abbiamo usato pochi arcieri non è stata una cosa molto grande mettiamo questo qua vediamo se ci rispondono metto un ciao per youtube vediamo se risponde qualcuno ecco ecco uno ha risposto pure questo ha risposto saluto tutti quanti anche se sono su un server europeo e quindi probabilmente nessuno vedrà il video però anzi io lo scrivo o qua magari vanno a vedere il video su Jerry Dementi quindi saluto tutti quanti spero che qualcuno vada a vedere magari sarebbe una bella cosa e ciao a tutti per questo video è finito scrivetemi ovviamente che tipo di video volete per la prossima volta e comunque ripeto per questo video è tutto bello a tutti grazie a tutti